svolta ecologica per la discarica di caas prete ottobre 2023 il più caldo mai registrato a pesaro ad un anno dalle terremoto si punta a riaprire la pieve di candelara applausi alla prima di ancora volano le farfalle sport vl a caccia della prima vittoria casalinga una buona serata telespettatori di rossini tv e benvenuti a questa nuova edizione di rossini news telegiornale di oggi venerdì 10 novembre che apriamo con le immagini che abbiamo girato questa mattina a tavuglia dove nella discarica di caas prete principiale impianto di smaltimento di rifiuti della provincia è stato inaugurato oggi l'impianto di trattamento interno dell'epercolato si tratta di una svolta ecologica che consentirà di evitare lo spostamento di 500 camion all'anno nelle nostro territorio vediamo amiche amici di rossini tv siamo in località casprete in comune di tavuglia vicinissimo al comune di pesaro è praticamente un luogo di confine verrà inaugurato l'impianto ultra filtrante e ad osmosi inversa per il trattamento del percolato di cosa si tratta dell'acqua reflua che passa attraverso i rifiuti grazie a questo sistema che pensate verrà presentato oggi e che costato un milione e mezzo di euro quindi un investimento molto importante si potrà risparmiare in termini di inquinamento qualcosa come 192 milioni di tonnellate di enidride carbonica perché perché questo percolato non sarà più trasportato dai mezzi di trasporto dai camion dai veicoli bensì potrà essere trattato direttamente qui nella località casprete andiamo ad inaugurare un impianto ad osmosi inversa in grado di trattare tutto il percolato viene prodotto sia la discarica vecchia in post mortem sia quella in esercizio e conseguentemente risparmiamo un bel po' di tonnellate di co2 emesse in atmosfera per effetto del trasporto con i camion dello stesso percolato e conseguentemente credo che oggi sia anche l'occasione per dimostrare al mondo alla collettività come un impianto che tratta rifiuti possa essere compatibile con il territorio in modo sostenibile e soprattutto contribuendo al miglioramento ambientale la tecnologia la tecnica è semplice fondamentalmente perché un filtro il problema è che il filtro è a maglie minuscole invisibili all'occhio umano quindi sono delle dei filtri di plastica con un passaggio dell'ordine dei micron quindi parliamo di millesimi di millimetro cose che non si vedono ad occhio nude o che ma che si devono vedere con il microscopio perché sia efficace all'interno di un processo di depurazione del percolato che è praticamente l'acqua a contatto con i rifiuti che si carica dalla parte organica dalla parte eventualmente dei metalli per depurare quindi per togliere tutte queste parti vengono utilizzati questo sistema di filtrazione prima chiamiamo ultra filtrazione quindi come un filtro normale passando da particelle più grande mano mano più piccole per poi arrivare alla filtrazione osmosi con l'ausilio della pressione pressione si parla di pressioni fino a 100 bar 100 bar è un chilometro di colonna d'acqua sopra di noi e quindi sono cose molto importanti anche energivore ma che ci danno il risultato atteso un investimento importante da un milione e mezzo e consente appunto di gestire il percolato direttamente della discarica direttamente in questo impianto osmosi inversa evitando viaggi delle autobotti che 500 circa all'anno che vanno fuori regione con il conseguente risparmio di appunto di CO2 prodotta di conseguenza questo è un fatto importante come è un fatto importante anche la gestione della discarica anche per il futuro anche nel cosiddetto post mortem perché appunto il percolato non si esaurisce con l'esaurimento della discarica ma continua a essere prodotto. È un investimento che consentirà una migliore vivibilità in questo territorio e lo dico sempre in ogni occasione con un grande senso di ringraziamento nei confronti dei miei concittadini anche vicini di casa perché nella nostra frazione di Babucci e dintorni un migliaio di persone da 30 anni vivono con questo impianto vicino a casa. Impianto che negli ultimi tempi con investimenti di questo tipo ci ha consentito di vivere molto meglio. L'impianto di oggi consente una migliore vivibilità a livello ambientale perché riduce l'inquinamento atmosferico che soprattutto è dato dal traffico di mezzi pesanti che venivano a prendere il percolato almeno due mezzi al giorno. Quello che abbiamo, quello che proviamo, tutti quelli che lavoriamo qui è grande passione per il nostro lavoro nonché amore per il nostro territorio perché noi viviamo qui, siamo di qui e dunque lo vogliamo gestire nel modo migliore che la tecnologia ci permette, che il nostro modo di operare ci dà la possibilità di fare e puntiamo sempre continuamente al miglioramento. Il mese di ottobre del 2023 è stato il più caldo mai registrato nelle comune di Pesaro negli ultimi 150 anni, ovvero dalle 1871, date in cui l'osservatorio Valerio di Pesaro ha cominciato l'attività di rilevazione, un mese di ottobre che ha registrato 19,4 gradi come temperatura media mensile, una temperatura nettamente più alta delle precedenti record di 17,6 risalente alle 1907. E nelle telegiornali di ieri ci siamo occupati della ricorrenza di un anno esatto dalle terremoto di magnitudo 5,7 che colpì la costa pesarese ed anconetana. Tanti gli edifici pubblici danneggiati e fra più ammalorati proprio gli edifici religiosi. Dopo il parziale ripristino della chiesa di San Decenzio e dell'echiostro di San Giovanni, ora si punta a riaprire ai fedeli anche la pieve di Candelara, ovvero la chiesa più antica delle territorie nonché quella più danneggiata dal sisma. La diocesi ha deciso di effettuare un prestito di 30 mila euro per una messa in sicurezza che consente la riapertura ai fedeli nelle prossime festività di Pasqua. Una soluzione tampone in attesa del finanziamento statale da 140 mila euro che consente il completo restauro della pieve. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni. In particolare quest'oggi parliamo di una segnalazione in parziale via di risoluzione dopo un anno e mezzo di solleciti. Parliamo della frazione di Apsella di Montelabate che sta vedendo smontare una gru abbandonata che era diventata una sorta di monumento del degrado. Correva l'aprile del 2022 quando le telecamere di Rossini TV si accendevano su un'area di Apsella di Montelabate su segnalazione di un neo residente della zona che si domandava perché quella gru destinata a cantieri e divi stesse lì da anni a lavori conclusi da tempo. Segnalazioni che Rossini TV rigirò all'amministrazione comunale impossibilitata a intervenire direttamente con la rimozione ma impegnatasi nell'occasione a sollecitare la ditta privata a rispettare le relative normative in tema di sicurezza sul lavoro e occupazione di suolo. A diversi anni di distanza e altrettanti mesi di silenzio questa settimana si è smontata quella gru che era diventata una sorta di torre poco estetica a presidio della zona non distante dal centro commerciale Le Matite. Rimozione che però non è ancora completata e con la base di sostegno restano ancora i tanti materiali edili accatastatisi fra ferraglie in via di arrugginimento. Una situazione né bella né ecologica né sicura che si auspica continui in un progressivo sgombero. Segnalazione che all'epoca accese l'attenzione anche sulla presenza di un silos abbandonato al fianco di un capanno fatiscente nella poca distante via Galilei. Altra situazione su un terreno privato, altra situazione degradata che resta tuttora in sospeso. E in attesa delle 14 novembre, giornata mondiale delle diabete, domani e domenica l'Associazione Diabetici di Pesaro organizza due giornate di screening gratuito in Piazza del Popolo, Angolo via Rossini. Si tratta di un programma di screening basato sulla misurazione della glicemia a digiuno adatto a tutte le fasce di età per rilevare i soggetti con diabete non ancora conclamato o con la percentuale di rischio di contrarlo. Gli esami si effetteranno fra le 9 e le 12 e le 16 e le 19. Domani nuova manifestazione a sostegno del popolo palestinese assediato. Dopo il sitino in Piazzale Colenuzio a Pesaro, il collettivo Bagolare organizza un'altra manifestazione di solidarietà domani alle ore 10 in Piazzale Roma ad Urbino. E sempre domani, alle 20 e 30 alle Mississipi di Gabiccio Mare, citerà il dibattito sulle tema dell'immigrazione dal titolo Luci della legalità. Per l'occasione sarà presente a Gabiccio l'eurodeputato Pietro Bartolo, Emma Petitti, Presidente dell'Assemblea Legislativa Emilia Romagna, Andrea Biancani, Vice Presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche e l'artista palestinese Nida Badouan. E vi segnaliamo anche che domani alle ore 11 nella Sala delle Consiglie Comunali di Pesaro il Movimento 5 Stelle ospita la presentazione del libro di Agostino Santillo dalle titolo Superbonus 110% tutta la verità. Un tema quanto mai caldissimo per i tanti lavori avviati e incompiuti a causa delle blocco della cessione delle credito e per l'occasione mancata di mettere in sicurezza edifici in zona a rischio sismico ed idrogeologico. E all'Alexandere Museum Palace Hotel di Pesaro è stato presentato oggi il primo concorso nazionale di cortometraggi sulle tema delle buone esempio. Vediamo di che cosa si tratta. La rivoluzione culturale nel segno del rispetto, dell'educazione e dei buoni comportamenti portata avanti dal conte Nani Marcucci Pinoli diventa un concorso di cortometraggi nazionale organizzato dal Cine Club Cesare Pandolfi di Pesaro. Un concorso presentato oggi all'Alexandere Museum Palace Hotel che chiama raccolta videomaker da tutta Italia per realizzare progetti capaci di esaltare comportamenti di buon esempio. Abbiamo indito un concorso nazionale per cortometraggi a tema. Il tema è appunto il buon esempio. La durata dei cortometraggi non può superare i dieci minuti e le opere possono essere presentate con vari aspetti. Può essere un documentario, un opera fiction, un cartone animato che possono essere prodotti con qualunque tipo di strumento, il telefonino per esempio. C'è molto bisogno di buon esempio in giro per quello che sta accadendo nel mondo, per come il mondo si è trasformato, per come si sono trasformate le persone. Sono convinto che il buon esempio sia tutto, tant'è vero che si impara a camminare guardando i genitori, si impara a parlare ascoltando i genitori e il buon esempio è tutto. Purtroppo invece nei giornali, anche nei tour show, nella televisione parlano sempre di cattivi esempi, come se fosse tutto il mondo così volgare, ingiusto, fratico proprio. Invece non è vero. La maggioranza delle persone sono per bene, solo che non si parla di loro ma si parlano sempre delle eccezioni, del male. Io sono in controtendenza, voglio invece parlare soprattutto del bene perché ce n'è tanto. Solo che in prima pagina mettono sempre le creative notizie e se c'è una buona notizia la mettono in terza, quarta pagina con dei titoli piccolini, piccolini, articoli corti e così si peggiora sempre più. Cerco in tutti i modi di portare avanti questa mia rivoluzione del buon esempio che ha preso piede, sta prendendo piede dopo tanti anni. C'è un gruppo molto attivo in Ticino, a Lugano, che si rincontrano e parla di buon esempio e cercano di dare il buon esempio e di valorizzare i buoni esempi degli altri, un altro gruppo a Terni, un altro gruppo a Tivoli, uno a Roma. Ed ora il buon esempio arriva a Pesaro all'Alexander Museum Palace Hotel. Lo farà prima con una mostra pittorica di Carlo Bruscia e poi col concorso per cortometraggi che vedrà come primo premio una settimana di soggiorno per due persone a mezza pensione all'Alexander. Altri progetti meritevoli saranno premiati dalle opere artistiche realizzate da Gabriella Pandolfi, Oriana Perrone, Luigino Antonelli, Franco Fiorucci e Maria Antonietta Ricci. La conclusione del concorso avverrà nel settembre del prossimo anno con la premiazione da parte degli artisti delle opere premiate. E un buon esempio di ispirazione è sicuramente la storia di tenace e positività della giovane pesarese Giorgia Righi. Una storia divenuta un film dalle titolo ancora Volano le Farfalle che è stato presentato ieri in e prima nazionale alle Multiplex Giometti di Pesaro. Amiche e amici di Rossini TV siamo sul red carpet virtuale del Multiplex Giometti di Pesaro per l'anteprima nazionale del film Ancora Volano le Farfalle. Un film liberamente ispirato alla storia di Giorgia Righi, un film che ci faremo raccontare dalle voci dei protagonisti e che andremo anche a sbirciare direttamente in sala in questa anteprima nazionale per voi. L'intento nostro era quello di dare una fotografia realistica il più possibile di quello che è veramente la vita di Giorgia che è sì da una parte purtroppo costellata di tantissime difficoltà perché aver a che fare con un nemico invisibile con cui ogni giorno devi fare purtroppo i conti non è assolutamente facile. Dall'altra parte però c'è una Giorgia che vive giustamente i suoi vent'anni con la leggerezza, la spensieratezza che è caratteristica di quell'età. La pellicola penso, insomma perlomeno io da regista mi sono impegnato il più possibile a cercare di ridare questa fotografia e di ridare questa spensieratezza che era giusto omaggiare nei confronti di Giorgia. È un film che sicuramente ha toccato delle corde molto particolari, l'ho visto, ho percepito in sala persone a cui è cascata la lacrima ma anche momenti in cui hanno sorriso e i quasi cinque minuti di applauso sul finale penso che li ricorderò per i prossimi anni. Si è percepito l'amore e la vicinanza degli amici e della famiglia. Poi è stato meraviglioso poter vedere negli occhi degli spettatori il messaggio di questo film che veniva recepito, ovvero che nonostante gli ostacoli dobbiamo sognare e lottare per i nostri obiettivi. Quindi sono contentissima e spero che il film si diffonda il più possibile. Io prima di conoscere Giorgia non era conoscenza, non ero informata sulla sua malattia, sulla sua patologia e in generale non ero mai entrata in diretto contatto con la disabilità. Conoscere Giorgia, conoscere la sua storia mi ha fatto capire proprio come ci sia la necessità ancora ad oggi di in qualche modo abbattere il tabù che c'è sulla disabilità, su questo tema e spero che il nostro film in qualche modo possa abbatterla e possa diffondere più consapevolezza. Inseguire i propri sogni e realizzare i propri obiettivi come ha fatto Giorgia nella sua vita reale come Beatrice che la interpreta ha dimostrato nel film è un messaggio che non può non arrivare e arriverà non solo su Peser chiaramente ma a livello nazionale per chiunque possa vedere questo film. Nella vita ci sono anche i cattivi, quelli che creano dei problemi agli altri e io incarno quel personaggio lì perché poi in fondo proprio come nella vita viviamo sempre in mezzo ai contrasti dove avvengono le scintille che ci fanno poi reagire. È un gran progetto per il sociale ma non solo perché comunque è una storia che dietro a tanti altri messaggi è quello dell'amicizia, quello dello sport anche molto forti e quindi sono molto felice da attrice autoctona insomma di essere stata scelta per questo ruolo che per me è davvero molto importante. Un film che abbiamo proprio seguito completamente dall'inizio, dall'idea fino a stasera che è la proiezione quindi l'emozione è tripla rispetto a un altro film avendo seguito proprio tutta la lavorazione dall'idea e contento di vedere tanta gente, contento di portarlo anche in giro per l'Italia nelle nostre sale e non solo quindi spero che Pesaro e anche le altre città rispondano bene a una storia così bella e uso questo termine corroborante nel senso che è una cosa che fa bene vedere questo film. E vi ricordiamo che potrete vedere il nostro speciale completo sulle film ancora Vodano le farfalle nell'approfondimento che Rossini TV trasmetterà martedì 14 novembre alle ore 21.20. Ed ora cambiamo argomento e andiamo a vedere il weekend delle squadre sportive peseresi che comincia domani alle ore 15 con la Serie A di Calcio 5 che vedrà Little Service impegnati in trasferta a Ciampino. Fuzza la cazza di riscatto come Little Service e l'Oreto Basket che giocherà domenica alle 18 a Civitanova. Nelle volley dopo tre sconfitte consecutive la Megabox Vallefoglia domenica 12 novembre sarà invece alle Palawan di Firenze contro la Salvino del Bene Scandici. Partita che si giocherà alle 19.30. Si disputerà invece domenica alle ore 14.30 l'impegno casalingo della Fiorini Pesaro Rugby che cerca la prima vittoria alle cospetto delle Val Sugana Padova. Infine la Visse Pesaro che nelle campionate di calcio di Serie C sarà in trasferta domenica alle ore 20.45 in casa delle Cesena, seconda forza delle torneo. Impegno che arriva anche a pochi giorni dall'infrasettimanale giocato in Coppa Italia, sempre a Cesena, è persa 1-0 dei Biancorossi. Programma sportivo che concludiamo con un nostro approfondimento sulla VL che domenica ospita Tortona nel secondo match consecutivo alla Vitri Frigo Arena. Partita che è stata esaminata da coach Maurizio Buscaglia nelle salotto delle giovedì sera di insieme a Canestro su Rossini TV. In questo servizio andiamo a vedere alcuni contenuti emersi dall'analisi dell'allenatore su questo primo mese e mezzo di campionato. Il fragoroso KO con Napoli dopo la clamorosa vittoria di Milano. Qual è la vera VL? Domande, quesiti e analisi che ieri ad insieme a Canestro coach Maurizio Buscaglia ha vivisezionato nel salotto del giovedì sera di Rossini TV di Elisabetta Ferri esaminando questo primo mese e mezzo di campionato. Un torneo che domenica alle 18.15 porterà Pesaro al secondo match casalingo consecutivo al cospetto della Bertram Tortona in cui l'imperativo è reagire al flop con Napoli. Eravamo un team non completamente connesso tra i giocatori e questo non ci ha permesso di giocare come volevamo giocare. Poi il secondo tempo o meglio gli ultimi 16 minuti non posso commentarli tecnicamente perché qui noi abbiamo una regola a cui non siamo stati bravi, in cui non siamo stati bravi. Si lotta fino alla fine. Tu infatti l'hai detto, questa nostra squadra non mollerà mai. Non esiste, mi sono incavolato per quello. È la prima partita, fammelo dire, hai ragione. Poi brutti, belli, quello che vuoi, ma non ci si può permettere davanti a un palazzetto del genere. Per il lavoro che facciamo, per la piazza che rappresentiamo, di non combattere fino all'ultimo pallone. Lo abbiamo anche visto in una partita ben approcciata persa, ben approcciata vinta, perché ci è capitato di tutto. Ben approcciata, hanno recuperato, abbiamo vinto, anche in un campo difficile. Ma anche in una partita non completamente ben approcciata, mi riferisco a Scafati. Abbiamo recuperato, abbiamo fatto e noi siamo usciti comunque dal campo sconfitti con un altro tipo di umore, atmosfera e partecipazione. Credo che anche perché probabilmente la gran parte della tifoseria comprende che dovendoci salvare, o giochiamo così o giochiamo così. Puoi sempre dire dove abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato lì e abbiamo però avuto una grande forza fisica, tecnica, mentale, di cuore di recuperare. Questo ci ha permesso di andare a Milano dicendo non possiamo noi partire così e non siamo partiti così. Ora io capisco anche l'avversario importante come è successo a Milano, ma quando Milano è rientrata eravamo in vantaggio, ci ha recuperato, fine primo tempo, canestro sulla sirena, probabilmente 9.000 persone che dicono ecco dai adesso è fatta, noi non abbiamo, non si è mosso un sopracciglio. Quindi vuol dire che questo nostro modo deve avere una maggiore consistenza nella linearità, nella continuità. Quattro punti in classifica per la VL, ma manca ancora la prima gioia davanti al pubblico della Vitri Frigo Arena. Per favore non mi dite che merita di più il pubblico perché già perdere quelle partite mi ha distrutto il cuore, per cui il pubblico merita molto di più di quello che ha visto, perché sì, perché l'avete visto, perché è fantastico, perché gli vorresti vincere tutte le partite e io non voglio che questo discorso entri troppo nella testa. Per tentare la prima gioia interna della stagione, sulla strada dei Biancorossi arriva una Bertram con due punti in più dei pesaresi e un cammino fin qui al di sotto delle aspettative, come confermato dall'ultima netta sconfitta interna con Brescia. Quindi arriveremo tutti e due da un po' di delusione, da un po' di rabbia sportiva, per cui da quel punto di vista noi dobbiamo fare un nono sforzo, un extra sforzo perché dobbiamo andare ad affrontare un team comunque profondo. Dobbiamo fare un lavoro importante su tutti i loro esterni perché sono giocatori di perimetro, sono giocatori di penetrazione, sono giocatori che si innescano tra di loro, quindi più giocatori sanno fare più cose, hanno in certi ruoli un atletismo importante, i loro lunghi giocano sia dentro l'area ma la possono aprire, c'è questo il mid range che loro possono avere con Radosevic, con Daum fino ai tre punti. Insomma, quindi da quel punto di vista bisogna preparare la partita, bisogna essere molto bravi nelle scelte che faremo e assumerci i rischi, ma c'è come al solito una grande, come dire, deve esserci una grande attenzione personale, individuale. Noi dobbiamo alzare questa responsabilità individuale nel giocato, in modo che la difesa del team sia fatta di tutte le prestazioni individualmente prese, ben fatte. E allora in bocca al lupo alla Carpegna Prosciutto Basket e Pesaro in cerca della prima vittoria casalinga domenica contro Tortona. Andiamo ora a vedere qual è la programmazione di Rossini TV per questa sera che alle 21.20 vi propone lo speciale TV dedicato alla 58esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. E subito a seguire alle 21.40 vedremo lo speciale TV dedicato all'inaugurazione del nuovo polo didattico Petriccio che si è tenuto questa settimana presso l'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. Vi ricordo il nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa domattina, anche di sabato alle ore 7.20 in diretta, saremo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, le repliche che vediamo in grafica alle ore 8.20, 12.20, 14.20 e 18.20. Domani mattina ci sarà Marco Cadeddu. Ed è davvero tutto per questa nuova edizione di Rossini News, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento di serata.